Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano due chilometri di coda in direzione Firenze. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. In A1 per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, anche stanotte in orario 22.6 sarà chiusa l'entrata di Valdarno in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze per l'emergenza Covid è stata sospesa la ZTL estiva notturna che sarebbe dovuta scattare il primo aprile. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!